Ti porto nella cucina di Medi Shopping, andiamo, seguitemi, abbiamo la cucina qua, vedete, questa è mia credenza, ora vi faccio vedere io, attenzione invece, abbiamo qui come prima cosa, questi sono flauti, leggete bene, flauti, ora noi prendiamo uno di questi, apriamo flauto, io dico flauto, voglio suonare, allora, questo flauto non suona un cazzo amici, io poi mi devo incazzare, attenzione, andiamo a prendere questo allora, abbiamo qui lo yo-yo, adesso prendiamo yo-yo, sapete, lo yo-yo, tu lanci, lui torna, vediamo, tu lancio questo yo-yo, non torna un cazzo amici, e allora io adesso mi devo agitare un attimo, buttiamo via queste cose, prendiamo penne, voglio scrivere una lettera al Santo Padre, andiamo, Santo Padre, io scrivo questa penna, vedi, io scrivo, questa non scrive, penne numero due, non scrivo un cazzo, e allora sai cosa ti dico? queste penne non scrivono un cazzo amici, io mi devo agitare qui, non ne posso più, adesso andiamo a prendere queste, qui c'è scritto bene, orecchiette, vedete amici, orecchiette, apriamo orecchietta, io non sento bene, metto l'orecchietta, non sento più un cazzo, e allora anche questa è una cazzata amici, come mai vendono solo stronzate in Italia, non capisco, ora abbiamo un pezzo forte, è scritto qui, uva passa, allora bene, prendiamo l'uva, questa uva passa, vedete, passa, passa, passa e non saluta, ma che cazzo posso fare? io mi incazzo, e faccio, e uno, e due, e tre, come on, amici, lo squat, e poi bicipite, e adesso è il momento di salutare tutti gli amici, perché se vado avanti così, io muorro, ciao a tutti, vi saluto, e vi porto qua con me, fuori. Ciao a tutti.